buongiorno 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 ben ritrovati a questa video analisi forex in collaborazione con il broker topfx vi sto già facendo vedere quello sullo sfondo c'è il copy trading adesso andremo a vedere esattamente quale sistema è il canale adesso allora costantino di topfx che saluto ha diviso allora adesso c'è il canale telegram dove trovate tutte le informazioni per esempio quello che vi sto mostrando adesso dove potete anche registrarvi questo link lo metterò anche sotto nella descrizione di questo video all'evento ogni lunedì sera c'è si parla di copy trading c'è un webinar in cui si parla di copy trading e vengono anche a presentare i loro sistemi vedete oggi chi saranno i protagonisti dentro trovate poi tutto il lavoro che sta facendo costantino vedete ci sono tutti i vari sistemi quello che lui personalmente sta anche monitorando e c'è questa possibilità questo confronto per capire bene come funzionano insomma come funziona questo copy trading che vi dà la possibilità di replicare automaticamente le operazioni di traders che voi potete scegliere tra migliaia 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 presenti in tutto il mondo in base alla performance il rischio una serie di statistiche che adesso vi farò vedere scegliete voi potete anche farlo prima con un conto demo per non rischiare nulla per non perdere i vostri soldi e potete anche proporvi come potete proporvi anche come fornitori di strategia eccolo qua per esempio ogni giorno costantino mi pone ci pone a tutti insieme all'attenzione un sistema e oggi ancora un altro sistema della famiglia oramai bpfx presente con varie strategie quella odierna è discoverer che è presente da tre giorni quindi da poco tempo e comunque già ha un ritorno di investimento importante ci sono state probabilmente vedrete delle di sotto anche che ha uno storico più esteso perché hanno ripreso sono state rinominate quindi bpfx saluto il team anche lo staff di bpfx praticamente ha aggiunto all'interno della propria gruppo di strategie quelli che erano già presenti e quindi ecco perché spiegato anche se qui dice tre giorni però sotto vedete già lo storico molto 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 interessante a destra le condizioni per poter quali sono le condizioni per poter seguire questo sistema un primo summary report della profittabilità e anche del box balance drawdown poi statistiche relative ai trades quanti vincenti al rialzo al ribasso e lo vedete anche rappresentato qui graficamente poi ci sono ancora altre informazioni altre statistiche il numero di copiatori insomma tutto tutto alla luce del sole fatto in maniera trasparente perché dovete avere tutte le informazioni informazioni quelle necessarie fondamentali prima di investire i vostri soldi e replicare automaticamente quella che è la performance del sistema quindi contattate costantino nel link sotto a questo video su youtube metterò il link sia per il canale il gruppo dove ci sono centinaia e centinaia di trades che già lo stanno usando con cui potrete quindi confrontarvi e anche il link per partecipare al webinar di questa sera vediamo adesso le valute il mondo del mondo del forex cominciando come sempre con il dollaro index sotto il grafico a un minuto sopra quello di tendenza giornaliere kinashi che ci dice un dollaro ancora debole resta il rosso che però ha trovato per il momento sembra almeno aver arrestato la corsa al ribasso su questo livello poco sotto i 93 questo è il dollaro andiamo a vedere invece contro un paniere contro i vari cambi quelli che scusate appunto quello era il paniere contro tante valute tra cui soprattutto l'euro dollaro che è praticamente il grafico capovolto però al vedete qui questa situazione la si vede riflessa col colore verde a favore ancora di euro a debolezza a debolezza quindi per il dollaro quando siamo nella settimana del meeting bce di giovedì prossimo dollaro contro il franco svizzolo siamo tutti alle prese con dei livelli importanti supporto in questo caso 0,9028 però ancora rosso debolezza dollaro la sterlina pure potrebbe tornare a invertire al ribasso sterlina che ovviamente è tra due fuochi tra dollaro e vicenda brexit anche il dollaro yen è arrivato su un bel ancora debolezza dollaro ma è su un bel supporto la strada invece già scusate ha recuperato diverse posizioni stiamo parlando di commodity currency così come il neozelandese e usd cade sempre lì sopra il livello 1 31 e 10 grazie alla prossima domani con una nuova video analisi forex grazie a tutti